Questo è il cantiere di Curno, zona Oshan, là in fondo, subito dietro vediamo il centro commerciale, il famoso centro commerciale con 70 negozi di Oshan, Decathlon. Sul fronte abbiamo la tangenziale che fa circa 140.000 passaggi veicolari al giorno. Abbiamo in apertura, i prossimi due mesi, i primi due ristoranti, un ristorante americano, un ristorante Fusion, al piano terra poi avremo ancora un parrucchiere con estetica, al primo piano un grande ufficio di 700 metri, rimane libero un fronte di 1500 metri e una piastra grande da 1200 al piano terra da poter dividere, che è quella che si vede qua, che sto inquadrando in questo momento, che fa angolo direttamente su Decathlon.